buongiorno ciao a tutti e bentrovati sul mio canale allora oggi finalmente video presentazione del progetto di marzo in collaborazione con il sito semplici bijoux per cui anche questo mese io e rene abbiamo deciso di proporvi un nuovo progetto e visto che la settimana scorsa c'è stata la festa della donna non potevamo che dedicare alle donne il progetto di questo mese e infatti andremo a realizzare un paio di orecchini che abbiamo chiamato women ora ve li mostro subito senza perdere tempo eccoli qua questi sono gli orecchini che andremo a realizzare insieme nel prossimo tutorial troverete questa versione nel sito di semplici bijoux e anche altre versioni che poi vi lascerò la carellata delle foto a fine video però vi metto come sempre tutti i link di riferimento nel box informazioni qui sotto al video questo mese abbiamo deciso di utilizzare per cambiare un po degli ovali infatti è un ovale incassonato con dei cipollotti rocaille poi abbiamo usato le gem duo le esso ancora cipollotti in due misure e rocaille e questi insomma sono gli orecchini che andremo a realizzare insieme io spero che questo progetto vi piaccia fatemi sapere fateci sapere cosa ne pensate poi ditemi anche sotto nel video qual è la vostra versione preferita che sono curiosa sono curiosa di sapere quale vi piace di più e niente posso far vedere ora nel dettaglio il contenuto del kit di questo mese allora il kit del mese di marzo si presenta in questo modo vi arriverà a casa con questa grafica in questa confezione e dietro come sempre l'elenco di tutto il materiale che troviamo all'interno del kit che ora vi faccio vedere nel dettaglio allora per il modello cleopatra troveremo un filo di cipollotti 6x4 colorazione dark peach luster ab sono questi poi altro filo di cipollotti questi sono 4x3 colore verde prato luster ab poi ci sarà una confezione da 10 grammi di rocaille 11.0 della toho per questa versione la colorazione è la bronze poi confezione da 5 grammi di so queste sono le jet sunset full guardate che bel colore bellissimo poi sempre confezione da 5 grammi anche di gem duo queste sono le gold splash opac turquoise di queste ce ne basteranno solamente due per ciascun orecchino per cui le altre potrete utilizzarle tranquillamente per altri progetti poi gli ovalini ovviamente sono i protagonisti indiscussi di questo progetto e poi in abbinato anche i pernetti con i relativi anellini niente questo è tutto quello che troveremo all'interno del kit del mese di marzo e spero insomma che il progetto vi piaccia fateci sapere cosa ne pensate qual è la versione che vi piace di più ovviamente ora vi lascio tutte le altre versioni disponibili già da subito sul sito il link tutti nell'info box come sempre io vi mando un bacione grande grande e vi do appuntamento fra qualche giorno con il tutorial per realizzare gli orecchini women ciao 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 ciao